Leggiamo insieme l'articolo 38, la tredicesima mensilità per Badanti e Colf. Punto 1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note verbale apposte in calce al presente contratto. Punto 2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungono un anno di servizio saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. Punto 3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Questo è l'articolo 38 del contratto CNL lavoratori domestici, che spiega i diritti sulla tredicesima per Badanti e Colf. Grazie a tutti. 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 Grazie.